Ci troviamo in piazzale Cinelli a Pesaro, piazzale che da via del governatore collega all'ospedale San Salvatore e proprio in questo punto la palazzina che vedete alle mie spalle sarà oggetto di riqualificazione. Un progetto che è finito ieri sul tavolo della commissione consigliare patrimonio su questo che è l'ex edificio dell'edazio che il comune cedette a soggetto privato. Ora su questa zona sorgeranno appartamenti, si creerà una piazzetta, ci sarà un rifacimento di pista ciclabile con un nuovo tratto e anche una nuova illuminazione. Tante però le perplessità dalla Lega di Pesaro Urbino. Questo fabbricato è il fabbricato ex dazio, è stato oggetto di permuta da parte del comune nei confronti di un privato che l'ha visto cedere questo fabbricato in cambio di un edificio a Trebbia Antico da ultimare e per ora inutilizzato e anche in cambio di 140.000 euro. Oggi perché ci troviamo qui? Perché ieri in commissione hanno portato la sdemagnalizzazione di 60 metri quadri di parcheggi pubblici in cambio di 120.000 euro e di opere di sistemazione di questa piazzetta da parte del privato. Allora noi contestiamo totalmente questa operazione perché a nostro parere togliere dai 5 ai 10 posti auto, 5 sono qui, poi 2 là e 4 di là per la ciclabile per in cambio di non si sa cosa perché alla fine il comune non ottiene nulla, noi non siamo d'accordo. Quindi siamo qui a contestare questa scelta e in commissione ieri ci siamo opposti a questa procedura. Il disagio principale in questa zona può essere proprio quello della mancanza di parcheggi che si verrà a creare. Almeno 5 ne spariranno ma secondo i consiglieri della Lega potrebbero esserne sottratti ancora di più. Forte disagio per i cittadini pesaresi. Secondo me è una scelta inopportuna togliere 10-11 parcheggi per realizzare una piazzetta. Una piazzetta che a poco servirà. Cosa servirà? Per spostare il bivacco da davanti all'ospedale a davanti a questo edificio. Noi cosa chiediamo? Chiediamo di valutare altre opzioni e il realizzo di altri parcheggi per uso cittadino.